Un caro saluto da Francesco Samani, visualizzo se siamo partiti con la visualizzazione, sì. Allora ritorniamo nella nostra lavagna interattiva e vi dico subito che questa lezione sarà relativa a creare un'unità didattica, ovviamente tenendo in considerazione una classe eterogenea, quindi relativa a una unità didattica e ovviamente è maggiormente rivolta a come organizzare l'ambiente di studio qualora nella classe ci siano anche studenti BES. Perché ovviamente è tutto più facile organizzare una lezione tra virgolette tradizionale che non tenga conto di esigenze e bisogni particolari. Però ovviamente avere una visione più ampia ci dà la possibilità di fornire una lezione utile a tutti. Allora prima di iniziare io voglio ringraziare in questa diretta tutte quelle persone che ci seguono e che collaborano al canale scrivendo commenti, mettendo like e partecipando, questa è la forma di contributo più grande che potete dare. e allora ringraziamo Artstyle Napoli, Floriana Farano che dice non ho fatto in tempo a seguire una diretta, io c'è stata una diretta musicale, ti ringrazio tanto Floriana, Paco, Giovanni, Eleonora, Viral Top, Paola Prosperi grazie di aiutarci, Maria Cipriano grazie per la competenza ma soprattutto per lo stimolo a studiare e conoscere meglio il nostro lavoro, grazie a te Maria Cipriano, Sara Prosperi, non ho mai conosciuto un professore così capace di mettersi in discussione, così motivato alla condivisione ma soprattutto capace di sentire e divulgare anche, virgolettato di pancia, complimenti, lezioni con una bella centratura necessaria per affrontare il concorso. io Sara Prosperi ti ringrazio veramente tanto, ringrazio dei professor, alla scuola siamo noi, Edgar, Laura, Fanny Lobb, Laidi, Giada Chioso, sempre molto interessante, tutti ovviamente coloro che partecipano, che seguono, che lasciano commenti, io ovviamente ringrazio, i ringraziamenti sono rivolti a tutti voi. allora abbiamo detto che rivolgendoci e focalizzandoci ad una unità didattica è fondamentale insomma comprendere l'ambiente, comprendere e progettare e organizzare l'ambiente di lavoro. Se ci pensate, quante volte ci è capitato o ci capiterà di ascoltare dei genitori lamentarsi dei compiti? ma anche in generale di noi docenti? quante volte ci capita di ascoltare la mentele? se volete condividere le vostre esperienze potete lasciarli qui sotto nei commenti. chi dice non trovo corretto che un bambino deve stare tutta la mattina a scuola, mio figlio oltre alla scuola ha anche lo sport, la musica, la danza, mio figlio non può stare sempre a studiare, mio figlio ce la sta mettendo tutta, ci sono a volte tante 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 lamentele perché essenzialmente viene quantificato il lavoro dei propri figli in maniera solo quantitativa, non qualitativa. ovviamente stare concentrati e organizzarsi e organizzare bene il proprio metodo di studio dà la possibilità poi per poter seguire e fare tutti gli sport e spesso poi accade anche un qualcosa di particolare non di rado i genitori soprattutto nelle scuole elementari e nelle scuole medie si sostituiscono nei compiti a casa aiutano i propri figli ovviamente la parola aiuto non significa aiutarli in maniera efficace cercano di dare una mano e a volte si sostituiscono anche a loro ovviamente fare i compiti adesso voglio dare un'infarinatura generale dando sempre qualche elemento nuovo in ogni diretta per dare poi una visione globale di come rispondere a tutte le domande del concorso perché ovviamente per rispondere a tutte le domande del concorso bisogna solo essere, fare, insegnare, avere esperienza, aggiornarsi e confrontarsi come faccio io del resto tutti i giorni dicevo i compiti che cosa rappresentano? tra l'altro potrebbe essere anche una domanda ovviamente è un'occasione di crescita per lo studente è fondamentale anche perché è un'occasione di prendere consapevolezza di tutto ciò che si sa di ciò che di cui si ha problema è un momento insomma per far crescere la propria stima quando si riesce quando i compiti si riescono a svolgere quindi avviene una un processo di chiamiamolo così di fortificazione dell'io e ovviamente questo è importantissimo per gli studenti BESS ovviamente che seguono i programmi di classe o per obiettivi minimi o completamente perché sappiamo che poi il docente deve certificare le competenze che lo studente ha alla fine dell'anno e dobbiamo sapere che gli studenti con bisogni educativi speciali hanno la caratteristica spesso di non riuscire a fare le cose degli altri e quindi per loro è molto molto importante la fortificazione del dio è molto molto importante l'autostima bisogna dare un ruolo fondamentale anche all'aspetto psicologico degli studenti e in particolare di questi studenti come un atleta ha bisogno di qualcuno che lo accompagni nel corso del proprio allenamento quindi in quel caso ci sarà un allenatore ma ovviamente l'allenatore non può sostituirsi all'atleta l'insegnante è colui che deve seguire la crescita attraverso anche i compiti la crescita dello studente ovviamente qui in input come input c'è l'insegnante dall'input e diciamo tramite anche la consapevolezza vi può essere una crescita intrinseca in quanto lo studente prende consapevolezza di sé poi ovviamente quando la crescita viene eseguita vi è ovviamente un output e un feedback che l'insegnante riceve e quindi l'insegnante ovviamente cerca di dare una direzionalità dello studio o allo studio ovviamente noi ci poniamo anche come guida guida che aiuta e ovviamente la guida è fondamentale immaginiamo un po' i navigatori quanto sono importanti per farci arrivare da un posto partire da un posto e arrivare in un altro noi siamo insegnanti abbiamo la capacità e anche la responsabilità di portare i nostri studenti alla consapevolezza e all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze quindi è anche importante nei compiti tener conto ovviamente questi sono aspetti secondari tener conto del ruolo della famiglia ma non solo nei compiti perché tante volte quando i nostri studenti hanno difficoltà spesso hanno anche difficoltà di relazioni con la propria famiglia oppure è proprio la famiglia che ha difficoltà di relazione con la cultura quindi relazione con la famiglia questo è un punto comunque che è sempre correlato collegato al fare i compiti e ovviamente tutte le nostre strategie didattiche sono finalizzate a fornire e a garantire a uno studente eccellenza cognitiva quindi nei compiti ma anche in aula ma anche in DAD in didattica a distanza noi abbiamo degli strumenti che hanno tra hanno tanti fini e tra questi bisogna garantire che il discente o lo studente possa arrivare a un'eccellenza cognitiva quindi attraverso anche possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive quindi la capacità spiccata rispetto ad altre e quindi favorire i punti di forza dello studente questo è importantissimo cioè dare importanza bisogna dare importanza alla specificità dello studente ovviamente ogni studente ognuno dei nostri studenti potrà acquisire un determinato punto di forza e noi come esperti dobbiamo quindi saper programmare realizzare e verificare i percorsi formativi quindi il docente deve realizzare in maniera opportuna ovviamente prima programmare poi realizzare programmare realizzare verificare ovviamente abbiamo anche gli strumenti di verifica che cosa è il percorso formativo le varie unità didattiche e anche perché no le unità didattiche di apprendimento se avete dei dubbi in merito a questi elementi percorso formativo unità didattica unità didattica di apprendimento troverete tantissimi video all'interno del canale il docente è anche un facilitatore ma facilitatore in che senso facilitatore verso lo sviluppo di conoscenza e competenza quindi facilitiamo all'alunno l'apprendimento siamo sicuramente dobbiamo essere sicuramente una risorsa dobbiamo sempre chiederci oggi nel nostro lavoro siamo stati una risorsa per la nostra classe siamo stati una risorsa per tutti i nostri studenti ce lo dobbiamo sempre chiedere noi siamo lo strumento noi diventiamo anche strumento affinché strumento affinché l'alunno possa sviluppare tutti quegli elementi importantissimi la consapevolezza ovviamente sono importantissime anche le conoscenze specifiche di ogni materia quindi di ogni classe di concorso tutte le abilità soprattutto per le materie più pratiche le competenze ovviamente se non avete chiaro questi termini soprattutto relativamente alla scuola andatevi a rivedere perché ovviamente nella lingua italiana nel vocabolario nel zionario tercani hanno una determinata un determinato significato però ovviamente poi il ministero dell'istruzione ha dato dei valori specifici ad ognuna di queste parole noi siamo anche coloro siamo la scuola dell'autonomia ma i docenti che portano verso l'autonomia cioè verso la possibilità l'autonomia vista anche come libertà da parte dello studente dobbiamo essere in grado anche di dare libertà di pensiero libertà e capacità di pensare di pensare e di agire in maniera coerente in maniera rispettosa e quindi anche qui poi si collegano tutte le competenze chiave quelle di cittadinanza quelle di rispetto e siamo coloro che come avevo detto all'inizio della live organizziamo l'ambiente di lavoro allora fatemi sapere se vi piacciono questi video nel senso anche la durata del video perché ovvio io più tempo ho più posso andare nella specificità della lezione ovviamente non farò una diretta di tre ore però voglio continuare un altro po' per poter darvi altri elementi su cui riflettere e magari anche altri elementi su cui prendere appunti quindi l'elaborazione e la programmazione della lezione dell'ambiente poi di studio e di lavoro è dedicato anche a capire poi come i nostri studenti soprattutto poi in didattica a distanza svolgeranno i compiti definendo anche il tempo necessario che avranno per le varie materie quindi non dobbiamo pensare solo alla nostra materia alla nostra classe di concorso pensando anche a preparare e organizzare materiale utile per lo svolgimento di ogni singola materia dobbiamo come insegnanti competenti dobbiamo anche progettare o aiutare a progettare l'ambiente di lavoro e di studio dello studente perché perché sicuramente esso l'ambiente veicola l'apprendimento dello studente stesso il nostro studente ha bisogno di una stanza abbastanza ordinata silenziosa magari stare anche un pochettino lontano dallo smartphone un ambiente che favorisca la concentrazione ovviamente non possiamo entrare in casa di ogni studente però qualora lo studente ha difficoltà noi dobbiamo capire da dove viene questa difficoltà e ovviamente io vi sto dicendo quelle che possono essere diciamo degli errori più comuni che possono fare i nostri studenti e quindi può nascere una domanda a questo punto ma come deve organizzarsi lo studente per fare i compiti allora secondo me ma non solo secondo me è importantissimo il quaderno dove lo studente prende appunti si segna tutte anche quando si studia sul libro ovviamente nel quaderno può prendere appunti ovviamente li può prendere anche nel libro sul libro e ovviamente poi tutto quello che viene memorizzato che viene appreso durante la lezione poi può essere rilaborato nel tempo e ovviamente è importantissimo un diario nel quale diciamo memorizzare e scrivere tutti i compiti perché ovviamente poi c'è bisogno da parte dello studente anche di un allenamento autonomo che non avvenga solo durante la lezione quindi il diario e i quaderni rappresentano uno cioè tra i più importanti strumenti di comunicazione tra scuola e casa anche sfogliandoli si può comprendere quanto lo studente sta seguendo noi docenti e noi poi possiamo intervenire in maniera adeguata all'affiancamento del lavoro e al dare una mano nel lavoro dello studente quindi bisogna il docente eppure colui che definisce il planning ci sono molte parole in inglese però adesso le spieghiamo è un piano di lavoro una progettazione anche del lavoro anche il lavoro va progettato bisogna definire quando l'alunno deve svolgere o consigliare quando l'alunno deve svolgere i compiti ad esempio possiamo pensare a un criterio legato all'organizzazione pratica e obbligata del tempo cercando di far seguire passo passo le scadenze che vengono definite da noi docenti un altro criterio può essere si può abbassare sull'individuazione di un tempo minimo e massimo che in linea di massima lo studente deve dedicare ai compiti cioè uno studente che impiega 20 minuti per risolvere un'espressione è ovvio che poi in un compito in classe di 10 espressioni e in un'ora di tempo avrà il 3 e ovviamente allora anche cioè da questi elementi andando a valutare come lo studente progetta e pianifica il proprio studio noi possiamo capire quali sono i buchi quali sono le linee d'ombra le difficoltà che lo studente ha e quali possono essere gli interventi gli interventi da parte nostra risolutivi questo è importantissimo ovviamente tutto questo si collega a tutti coloro che devono preparare il concorso a tutti coloro che sono già di ruolo perché ovviamente poi il non è che cioè l'insegnante è insegnante solo dopo che ha vinto il concorso solo dopo che è di ruolo solo quando ho avuto una chiamata a scuola fino al 30 giugno fino al 31 agosto o una supplenza breve l'insegnante è colui che si aggiorna e cresce continuamente cioè con me alla conoscenza non c'è limite anche alla professione insegnante non c'è limite nel senso che possiamo sempre migliorare dico altre 3-4 elementi poi se vi interessa in particolare questo video io ovviamente continuerò ad elaborarlo e a portarlo avanti allora abbiamo detto che lo studente nostro deve pianificare anche e noi dobbiamo aiutare lo studente a pianificare le attività e quindi bisogna che noi abbiamo un quadro completo della situazione quindi lo studente soprattutto quando è piccolo può magari e noi possiamo aiutarlo anche in maniera tabellare a che ne so qui c'è il tempo libero qui ci sarà il dormire qui ci sarà la tv qui c'è lo studio qui c'è lo sport qui ci metto una casetta per indicare ne so il momento in cui si sta con i genitori il momento in cui si mangia si va al bagno eccetera eccetera e ovviamente lo studente consapevole deve saper comprendere cioè deve saper capire ad ogni colonna che ho creato deve saper capire tutta cioè il tempo da dedicare ad ogni attività ovviamente in questo caso rappresentata dalla colonna ovviamente deve capire come noi siamo proprio qui soprattutto qui come progettare lo studio ovviamente fuori dalla scuola per cercare di ottimizzare tutto quello che viene posto e proposto a lezione e quindi è importante che questo non lo studio perché a volte è anche così mi dispiace va compreso che lo studio non è un optional soprattutto lo studio individuale perché alcuni studenti che hanno difficoltà spesso poi vanno da studenti più grandi che per guadagnare qualche soldo li fanno i compiti oppure copiano e ovviamente lo studente che intraprende questo percorso poi si troverà malissimo perché ovviamente questa può essere vista come una via più semplice più facile e quindi lo studente può essere tentato di seguire questa via però ovviamente questo poi porta al non raggiungimento di tutti quegli elementi di tutti quegli obiettivi di cui parlavamo prima bene ovviamente vi dico qualche altra cosetta magari maggiormente a voce per cercare di essere più rapido mi dite voi voi nei commenti che cosa vi interessa di più ovviamente noi come insegnanti dobbiamo essere sempre in grado di presentare all'alunno strategie e procedure nuove ricordare ovviamente quelle già sperimentate come efficace per lui stimolare l'alunno a produrre abitudini nella gestione del compito quotidiano e proporre anche situazioni problematiche è fondamentale scusate come ho detto non avrei scritto più è fondamentale il problem solving adattare far capire agli studenti come risolvere i problemi e quando loro capiscono come risolvere i problemi capiscono poi l'importanza anche della materia e perché noi in quella materia facciamo studiare tutti quegli elementi quindi proporre anche situazioni problematiche nelle quali poter mettere in pratica le strategie apprese e quindi poi generalizzandole per le varie materie benissimo allora io vi faccio vi ripongo un cordiale e grande saluto da Francesco Samani alla prossima iscrivetevi condividete il canale mettete un like grazie grazie grazie